Immagina una battuta di caccia che si trasforma in una trappola mortale, un complotto, una rivelazione sconvolgente e una vendetta implacabile. La trama della Promessa continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Curiosi di sapere di più? Tutto comincia quando Curro scopre di essere il figlio illegittimo di Alonso, mettendo in pericolo i diritti di Cruz e Lorenzo sul Marchesato. I due, determinati a proteggere la loro posizione, orchestrano un piano letale per eliminare Curro. Ma il loro complotto si trasforma in tragedia durante una fatidica battuta di caccia. Curro rimane gravemente ferito e Feliciano, coinvolto nell'incidente, perde tragicamente la vita. Commenta qui sotto e facci sapere cosa ne pensi. Cruz e Lorenzo pagheranno mai per le loro azioni? La promessa di una vendetta è ciò che alimenta il dolore di Petra. Feliciano muore tra le sue braccia e la scoperta che la Marchesa è responsabile dell'omicidio scatena in lei una furia incontenibile. In un momento di profonda emozione, Petra affronta Cruz e le rivela che Feliciano era suo figlio. La Marchesa, colta alla sprovvista, rimane senza parole. E mentre Petra si allea con il conte Ignazio de Ayala, padre di Feliciano, la trama si infittisce. La loro alleanza promette di aggiungere ulteriore tensione e nuovi sviluppi inaspettati alla già complessa storia di La Promessa. Riusciranno Petra e il conte Ignazio a ottenere giustizia per la morte di Feliciano? Cosa riserva il futuro per Cruz e Lorenzo? Non perdere i prossimi episodi di La Promessa. Il destino dei nostri protagonisti è ancora tutto da scrivere.